Ciao, eccomi qui di nuovo in aeroporto. Sì, sono di nuovo in aeroporto, sono a Malaga e sto partendo per questo viaggio di crescita e di trasformazione. Chissà che cosa mi riserverà. Questa mattina mi sono preparata per questo viaggio a tanti livelli e ora sono qui vicino all'imbarco per partire per Parigi. Di nuovo, sì, ero a Parigi ieri e sono a Parigi di nuovo oggi. Quello che vorrei dirti è questo. Nella vita noi abbiamo delle idee in merito a che cosa possa essere buono, piacevole per noi. La cosa bella è che la vita non si muove secondo i nostri piani, ma si muove soprattutto con le sorprese. Sì, la vita è sorprendente e tende proprio a scombussolare i nostri piani e a renderci flessibili. Perché la flessibilità è una delle grandi doti che noi possiamo sviluppare per vivere bene. Perché se non siamo flessibili, ci neghiamo tutta una serie di possibilità. Tu pensa ad esempio a quello che è successo a me. Io ieri ero in Italia, sono partita per venire a Malaga. Questa mattina ho fatto un trasloco e adesso riparto. Per molte persone sarebbe una cosa impossibile e non mi ritengo una superwoman a questo livello. Mi ritengo semplicemente una persona che si apre a volte anche alle cose scomode e alle cose che normalmente mi verrebbe da dire che non sono possibili. Che sono fuori dalla portata anche a livello energetico. Ma se tu ti permetti di andare oltre quello che ritieni possibili, molte, molte cose riesci a farle perché in realtà è solo la tua mente che cerca di limitarti. Ma in realtà tu non hai tutti i limiti che la tua mente ti pone. Ti abbraccio e ci vediamo molto, molto presto. Ciao!